3 milioni di arrivi nel 2017, più 37% rispetto al 2013, con 2,9 milioni di turisti stranieri attesi nel biennio 2017-2018. 1,5 miliardi di euro è il valore aggiunto. Le imprese turistiche sarde sono all'11% sul totale, il 7% l'occupazione generata. L'isola è prima in Italia per stagionalità, con le strutture ricettive che lavorano a pieno regime per 60 giorni all'anno, contro i 138 delle Balearie e i 210 di Malta. Ma nel comparto è presente anche un imponente fenomeno del sommerso, con 100.000 case per le vacanze, che offrono 313.000 posti letto. Un'offerta una volta e mezzo superiore a quella delle strutture ufficiali. Nel 2015 sono state stimate 9,5 milioni di presenze negli alloggi non registrati. Sono questi alcuni dei numeri sul turismo in Sardegna contenuti nella ricerca dal titolo Economia e Turismo, modelli a confronto. La Sardegna e i suoi competitor, illustrata nell'Assemblea Generale della CNA Imprese Sardegna, è in corso in queste ore. Un lavoro col quale l'associazione intende fornire il proprio contributo ad una matura riflessione sul turismo in Sardegna, con lo sguardo agli scenari futuri e comparandolo con le realtà nazionali e internazionali, come le Baleari, la Corsica, Creta, Cipro, Algarve, la Croazia e Malta. Per superare la seggionalità, se avranno strategie serie di internazionalizzazione, innovazione, diversificazione dell'offerta e valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico-culturale, hanno sottolineato Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, rispettivamente Presidente e Segretario regionale della CNA, nel presentare la ricerca. Quanto al sommerso, si tratta, hanno detto, di un fenomeno con cui necessariamente si dovrà convivere, ma che deve essere monitorato, controllato e regolarizzato, anche in termini di recupero fiscale, perché oltre a distorcere la concorrenza, sottrae importanti risorse da investire nella qualificazione del territorio e sull'immagine delle destinazioni.